Bene ragazzi bentornati in un nuovo video, ho già parlato diverse volte sul canale di TikTok e di TikTok Shop di come sta cambiando completamente il modo di vendere, di comprare, di pubblicizzare anche prodotti online secondo la mia opinione TikTok Shop oggi con TikTok è il vero e unico social commerce presente oggi sul mercato Instagram ha fallito dove TikTok invece sta riuscendo a fondere praticamente Amazon insieme a Instagram con una piattaforma basata sui video e sul tag prodotto nei contenuti probabilmente in Italia non l'avete mai visto perché non esiste TikTok Shop non c'è e non c'è neanche TikTok Affiliate Center TikTok Shop Affiliate Center che è questo e di cosa si tratta? Vi faccio un breve riassunto poi vi taggo qui un video in cui ho già parlato di questo in pratica TikTok Shop ha dato la possibilità di creare dei veri e propri negozi online all'interno di TikTok come se fosse Amazon dove TikTok si occupa della spedizione del prodotto, della gestione del checkout quindi il processo di vendita è tutto all'interno di TikTok quindi compriamo all'interno di TikTok viene gestito l'ordine e le notifiche sull'ordine all'interno di TikTok Shop e quando il cliente riceve il prodotto può fare le recensioni proprio come su Amazon vengono in parte i prodotti gestiti sia da magazzini di TikTok sia da magazzini terzi o 3PL si chiamano in cui ci si può appoggiare per dare i propri prodotti perché poi vengono spediti direttamente la piattaforma di gestione si chiama TikTok Shop Merchant Center un po' proprio come Amazon dove possiamo gestire tutto l'inventario, il magazzino e gli ordini appoggiato a questa struttura di vendita che ogni seller o venditore può utilizzare qui negli Stati Uniti in pochi altri mercati c'è TikTok Shop Affiliate dove noi possiamo come venditori cercare affiliati che è questa schermata che state vedendo per promuovere i nostri prodotti che attraverso dei video taggano il prodotto e TikTok traccia tutto il processo di vendita cioè ad esempio se questo creator promuove un mio prodotto con il tag prodotto e genera delle vendite tutto viene tracciato da TikTok che mi sa assegnare chi è stato automaticamente chi ha comprato e dà le commissioni in automatico tutto gestito da TikTok infatti se vedete all'interno del TikTok Shop Affiliate Center possiamo ricercare creator che promuovono già i prodotti e filtrarli anche in base al volume in questo caso io ho messo una categoria specifica che è Home Supplies cioè prodotti per la casa e che abbiano venduto almeno 1000 prodotti quello che vedete qui in alto è il totale delle revenue generate dai creator nei live, nei video e nei showcase negli ultimi 30 giorni che cosa sono i live? ovviamente sono i live shopping dove fanno delle live taggando il prodotto e generano delle vendite i video sono quelli che vedete nella For You page o video normali in cui hanno taggato il prodotto e hanno ricevuto delle commissioni lo showcase è praticamente ogni creator che decide di promuovere qualsiasi tipo di prodotto ha uno showcase cioè una sezione dedicata dove fa una presente nuova vitrina dei prodotti che utilizza dove automaticamente chi li segue può andare a comprare i prodotti e li vengono riconosciuti delle commissioni non necessariamente facendo dei video i showcase possono essere semplicemente una selezione di prodotti un po' come Amazon quando crei la lista dei preferiti su Amazon dovete venire riconosciuta una commissione ora anche Amazon sapete all'Amazon Affiliate programma Amazon Partner ma non paga assolutamente quanto paga su TikTok dove le commissioni medie sono del 15% in media fino ad arrivare a cifre più alte del 30% se facciamo l'esempio di questo prodotto che vedete nel caso specifico è semplicemente un prodotto per pulire i pavimenti in questo caso noi vediamo che ha avuto 600.000 view ha taggato questo prodotto e noi attraverso le statistiche unificate di questo creator io posso vedere tutto e contattarlo per promuovere qualsiasi tipo di prodotto la cosa buona è che la maggior parte di questi creator non chiede dei soldi per creare il video ma semplicemente guadagna solo sulle commissioni generate vedete in questo caso lei ha venduto 1.400 prodotti ha generato più di 46.000 dollari in vendite e l'everage order value è stato di 38 dollari in media lei prende il 15% di commissione su ogni prodotto venduto quindi promuove 19 prodotti quindi questo è utile quando noi vogliamo vendere dei prodotti perché possiamo cercare l'influencer migliore perché possiamo selezionare anche la categoria sappiamo quanto potenzialmente già vende questo creator perché è un pubblico che già inclina a comprare la categoria di prodotti che ad esempio a noi interessa che in questo caso è home supplies home appliance o quello che vogliamo promuovere sappiamo anche l'età media di quelle persone che la seguono vedete il 17% ha 35-44 anni sappiamo che la maggior parte sono donne categoria che compra di più online e anche in che zona degli Stati Uniti sono più attive ma ancora più interessante nei trend sappiamo quante vendite ha generato qual è il numero di prodotti che ha venduto e il numero dei follower che ha avuto nell'ultimo periodo e quindi se sta crescendo o se sta andando giù in questo caso quello che volevo farvi vedere ad esempio i prodotti che ha venduto quel video che vi ho fatto vedere è il video che ha generato vedete più visualizzazioni e più vendite di prodotti molto probabilmente che è questo qui infatti ha avuto più di 600.000 view questo video e questi dati sono interessanti perché ci fa capire come vedete ad esempio ha pubblicato una serie di video che è diventato virale e con il tempo ovviamente ha perso le vendite arrivando fino a avere 100 ordini al giorno quel singolo video perché sappiamo che questo video perché se guardiamo le visualizzazioni possiamo intuire che il video che è diventato virale quindi il prodotto che ha venduto è proprio questo quindi se io clicco su view product in questo caso riesco a vedere anche qual è il prodotto e questo è come si presenta la schermata di acquisto del prodotto all'interno di TikTok shop come vedete c'è proprio il check out da qua non si vede perché da computer da cellulare si vede shop now o add to cart vediamo tutte le recensioni del prodotto di solito che vedete come in questo caso le foto di chi anche ha postato e ha ricevuto il prodotto quindi in questo caso è utile perché possiamo sapere se il prodotto ha fine e quanto ha generato in vendite quindi proviamo a immaginare che ha fatto un volume di vendita totale di un picco di 3.000 dollari al giorno lei prendeva una media del 15% a vendita facciamo caso che in questi giorni lei con il picco ha guadagnato un 15% un 400 dollari più o meno indicativamente al giorno di commissioni poi ovviamente gli altri giorni ha guadagnato di meno perché si è stabilizzato vediamo il volume di vendite fino ad arrivare sui 1.000 dollari dove ovviamente stiamo parlando di 150-100 dollari al giorno comunque di commissioni passive che le sono arrivate da questo video molto probabilmente ha avuto altri video con altre visualizzazioni, altri prodotti in questo caso il prodotto vedete questa è una ciotola per cani anche questa ha avuto probabilmente un tot di vendite non so esattamente quant'è il totale delle vendite che ha avuto per ogni prodotto specifico ma da qua io riesco a capire già se questa creator vende quindi cosa posso fare adesso? posso invitarla a promuovere i miei prodotti perché so che ha già magari una strategia un modo di fare video che converte e vende bene e rispetto ad altri creator magari non funzionerebbe perché se andiamo a vedere magari i video e non ha venduto quindi io attraverso i creator che hanno venduto di più so che quel loro stile di video li porta a convertire maggiormente rispetto ad altri creator magari divisi sempre per categorie vediamo ad esempio anche questa questa ha fatto questo volume di vendita questo ha altro 35.000 dollari quindi anche in questo caso io riesco a capire che ha generato un volume di vendite in questo caso vedete una specie di torre o di casetta per gatti e anche in questo caso 40 dollari costa il prodotto vado a vedere quanto ha più o meno venduto e quanto è la commissione media sul prodotto poi se andiamo su TikTok posso vedere esattamente quanto è anche la commissione sul singolo prodotto però vediamo in questo caso ha avuto l'11% di commissione su 8 prodotti diversi stessa cosa il numero totale di visualizzazioni e il totale di volume di vendita al giorno anche lui sui 100 dollari al giorno in commissioni che ha generato con il totale degli venduti eccetera quindi io so che il suo stile di video può essere affine e mi suggeriscono anche i creator poi affini che magari possono garantirmi un numero simile di vendite ora perché questo è interessante perché ovviamente apre un nuovo marketplace al di fuori di Shopify che è con la vendita diretta tramite Facebook Ads Instagram Ads e di Amazon quindi è un nuovo e completo e nuovo ecosistema e marketplace che ci permette di vendere i nostri prodotti il problema è che in Italia non esiste questo in Italia non è possibile al momento vendere su TikTok Shop perché non è ancora aperto non so sinceramente quando aprirà TikTok Shop in Italia ma la cosa interessante se abbiamo prodotti italiani volendo possiamo venderli negli Stati Uniti utilizzando TikTok Shop o utilizzando ad esempio la rete di vendita di Amazon magari combinandoli entrambi quello che sto iniziando a fare è offrire consulenze per chi ha già dei prodotti che siano anche made in Italy vedete in questa cosa ci sono prodotti che vanno dai 40 dai 50 adesso vendono anche prodotti da 100 e passa dollari quindi di aiutare da offrire delle consulenze per chi vuole vendere prodotti made in Italy o dall'Italia su TikTok Shop negli Stati Uniti in questo caso io quello che posso offrire è la mia esperienza diretta con TikTok Shop nel Marketplace e cosa fare per vendere negli Stati Uniti quindi contatti con 3PL third party logistics che ho personalmente direttamente che vi possano aiutare a darvi degli preventivi per vendere i prodotti e ricevere i prodotti che poi vengono spediti direttamente da loro questo fanno i 3PL contatti eventuali per aprire la società quindi se volete aprire una posizione fiscale negli Stati Uniti vi posso aiutare a fare quello ma soprattutto dal punto di vista strategico come muovervi cosa fare e come comportarvi se di solito questo l'ora di consulenza ce l'ho inclusa all'interno del corso e-commerce hero infatti quello che ho deciso di fare è offrire un'ora della mia consulenza in cui vi spiego anche se ha senso nel vostro caso vendere quel tipo di prodotto e eventualmente come migliorare le vendite normalmente nel vostro prodotto e poi eventualmente espandervi negli Stati Uniti e incluso anche il corso e-commerce hero quindi se vi interessa approfondire quanto ho detto qui sotto trovate il link per prenotarla è una consulenza in questo momento per ora quindi se trovate ancora il link vuol dire che ce l'ho ancora attiva con me direttamente quindi non è delegata a nessun altro sono io che mi occupo di parlare con voi direttamente quindi l'analisi che ho fatto adesso la posso fare con voi su uno specifico prodotto uno specifico bisogno che avete e ovviamente in paragone anche a quello che voi volete fare negli Stati Uniti spero vi sia stato utile questo video nel frattempo lasciate un like se così è stato e condividetelo magari con qualcuno per essere utile questa opportunità di business anche che sta crescendo e nascendo tanto negli Stati Uniti ci vediamo al prossimo video e a presto e a presto e a presto e a presto